Buongiorno e grazie. Buongiorno a lei. Se intanto ci racconta l'iniziativa a Sanyo, nelle varie piazze italiane, se intanto la presenta. Sì, noi abbiamo pensato di portare le nostre macchine nelle piazze per farle conoscere il più possibile all'utente finale e al pubblico, invitando poi i progettisti, i decision maker, quelli che poi influenzano l'acquirente finale nell'impianto, a vedere e a constatare la bontà delle nostre macchine. E soprattutto il concetto di Thing Gaia, che è il concetto a noi più caro, che è quello del rispetto dell'ambiente, rispetto della natura. Come procede? Beh, questa è la prima tappa, è stata organizzata abbastanza velocemente e stiamo riscutendo adesso, nella seconda giornata, un po' di pubblico e un po' di successo. Il mercato non è in una situazione favorevolissima, però voi ci credete lo stesso? Beh, assolutamente sì, è un dovere crederci comunque. E il mercato sì, davvero, può essere in una situazione avversa, però noi non abbiamo obiettivi di breve periodo, ma guardiamo più nel medio-lungo periodo. È un prodotto che secondo lei poi potrà arrivare anche alle famiglie? Beh, è pensato soprattutto per comunità, quindi ci rivolgiamo a case di cura, alberghi o comunque strutture che hanno dei volumi importanti da climatizzare. Non è escluso che in un domani si possa poi arrivare anche alle famiglie con un prodotto di questo tipo. Il problema sono ancora i costi? Beh, i problemi sono i costi anche perché, ripeto ancora una volta, per il rispetto dell'ambiente è migliore un impianto centralizzato e quindi occorre anche pensare alla costruzione dell'edificio pensato per questa tipologia di macchine. Da un punto di vista della ricerca, Sanio è assolutamente avanti? Beh, diciamo che Sanio in questo momento ha dei prodotti unici. Oltre al nostro GHP, che è la macchina che noi in questo momento stiamo presentando con questo roadshow, abbiamo una macchina che è alle nostre spalle, che praticamente funziona con un gas refrigerante assolutamente naturale, che è la CO2. E quindi anche lì, prima Sanio è arrivata nell'elaborare, quindi nel studiare, un compressore che potesse lavorare con questo gas assolutamente naturale. Io dalle persone che ho, con le persone che ho visto ieri, le cose che mi hanno detto erano rimasti tutte abbastanza stupiti, anche gente del settore. C'è molto interesse per questo prodotto? Sì, assolutamente sì. Il nostro dovere è adesso far conoscere queste novità, appunto, prima di tutto al settore e poi al pubblico, al grande pubblico. Quando prima si parlava del residenziale, noi abbiamo comunque sviluppato tutta una serie di macchine, di una famiglia di prodotti, ideale per il residenziale, sia per il caldo che per il freddo, e sono quelle macchine che noi abbiamo alle nostre spalle. Oltre a pensare ad un alto rendimento delle macchine, abbiamo anche pensato un po' all'estetica, soprattutto per il mercato italiano, molto attento all'estetica. Abbiamo creato queste macchine con i pannelli colorati, abbastanza, almeno per il mio gusto, abbastanza raffinati. Grazie, Dottor.